Ciao raga bentornati sul mio canale youtube è un po' una barzelletta questo video perchè i fortunati che avevano avuto la possibilità già di cogliere qualche informazione ieri avevano notato che mancava il mio audio quindi purtroppo insomma era venuto meno un po' tutto il contenuto del video però per fortuna il buon juon si è prestato immediatamente per al volissimo per registrarlo nuovamente infatti lo ringrazio e perchè l'argomento era troppo bollente per lasciare il video morire così insomma perchè oggi andremo a parlare del famigerato vendotengo ossia di come andare a gestire le carte che troveremo inizialmente oppure anche quelle che magari vogliamo andare a comprare quindi abbiamo una duplice scelta e sappiamo che per non perdere i credit dobbiamo stare attenti e ci dobbiamo muovere in un certo modo quindi juon io partirei immediatamente da quelle che sono le carte diciamo un po' più trappola ovvero quelle che sappiamo che hanno degli overall bassi costeranno tantissimo ma poi saranno destinati a morirci in mano esattamente perchè comunque come ho ben detto molte saranno carte target per le squadre le stiamo vedendo un po' in moltissimi builder perchè sottrappole perchè ovviamente la gente ci va a dover investire e può da un momento all'altro insomma farsi sentire il carico dei giocatori che vengono immessi e quindi se riesci a switchare sulla schermata così facciamo pure vedere ci siamo ci siamo ok perfetto abbiamo già un chiarissimo esempio qui davanti proprio Godfrey è uno di quelli che quest'anno abbiamo visto praticamente che un builder si è uno pure una carta che è velocissima buggata eccetera eccetera molti stanno sottovalutando il fatto che questo è presente praticamente ovunque ci sarà molta gente che ci investirà molta gente che lo metterà in squadra cosa succede? però poi dopo i FIFA Points si faranno sentire non solo quelli del day one diciamo così del giorno 27 ma anche quelli che verranno spacchettati durante queste 10 ore e questa è una carta che ha un overall relativamente basso cioè 77 sarà plurispacchettato e quindi un po' alla volta calerà magari non calerà nella prima settimana dipenderà ovviamente anche dal cap dei suoi colleghi di reparto nella stesso campionato però sarà una carta che forse già per la prima WL potrebbe avere un calo importante in merito a ciò vi faccio vedere Closterman o meglio un trappolone quest'anno sì esatto vi faccio vedere quello dell'anno scorso giusto perché potrebbe avere un andamento molto simile anche se considerate che Closterman non era Premier quindi immaginate poi rapportate tutto questo di cui stiamo parlando rapportatelo alla Premier potete vedere che ci sta una prima fase di cap era cappato 18 poi una risalita con il nuovo cap giocatore in hype regge fino più o meno alla seconda settimana di gioco prima della WL poi se ne frega altamente di tutto quello che succede cala inesorabilmente tanti giocatori come Closterman che sono in campionati esterni alla Premier avranno questo tipo di andamento perché poi tanta utenza che inizia a fare credit inizia a spacchettare inizia ad avere premi aumenta il suo potere di acquisto si dirige verso la Premier stessa quindi diciamo che lui forse è un pochino in più regge perché sta già nel campionato in cui diciamo tutta questa movimentazione ci sarà altro esempio noi che abbiamo fatto era il buon Joe Gomez andiamo a prendere sempre quello dell'anno scorso anche se era una valutazione un po' più alta diciamo così ecco quel Godfrey potrebbe essere simile a questo Joe Gomez ovviamente un'attacca più basso perché non c'ha i link del Liverpool però potrebbe essere una calta molto costosa lui una mano gliela dava all'overall una mano gliela dava all'overall perché l'83 mitigava quello spagnettamento poi il campionato la nazionalità questo era proprio definitivo praticamente prese subito pure l'IF baggatissimo immagina immagina cosa possa succedere a un Godfrey se poi qualche pro inizia a parlare così così certo è un attimo se si regge veramente pochissimo poi crolla quindi fate molta attenzione a queste carte sì quindi mi raccomando ragazzi queste carte qua pure quelli che possono essere magari San Just questi giocatori che sulla carta sono super veloci eccetera eccetera però campionato strano nazionalità strana alla lunga comunque finiranno per morirvi tra le mani quelli proprio male nel senso che chi non riesce ad agganciarsi ad un ambiente premier o Francia o Brasile quindi quelle nazionalità che comunque bene o male nelle ibride terranno botta non possono reggere gli spacchettamenti cosa che invece non succede al contrario per carte che magari non hanno questo overall altissimo così come proprio nel caso di Joe Gomez ma che invece insomma riescono a mantenere tanto abbiamo visto l'anno scorso lo stesso appunto Gomez Mendy quest'anno potrebbe esserci dei nuovi trend no? ci sono dei nuovi trend delle new entry per così dire l'abbiamo visto un teo veramente rampa di lancio potrebbe essere il Mendy di quest'anno overall alto per lui medio alto sì insomma comunque non di quelli bassi è una carta che è veramente importante per la nazionalità ha anche dei colleghi abbastanza decenti no? Tomori Tomori lo stesso che si ha avuto un upgrade importante quindi chiuderlo all'interno di una ibrida sarà abbastanza semplice ibridarlo per nazionalità è francese quindi è la migliore nazionalità attualmente in FIFA per quanto riguarda i colleghi e potrebbe essere potrebbe veramente avere un trend alla Mendy Mendy aveva inoltre dobbiamo ricordarlo un compagno di reparto molto molto forte che era Varane che è andato via resta secondo me tra le migliori scelte questo Mendy anche per la questione piedodebole skill si ibrida ancora bene secondo me si fermerà un po' prima questo Mendy perché comunque il binomio Varane Mendy si autoalimentava salendo Varane saliva anche Mendy perché erano un semplice link quest'anno magari c'è Militao ma non è la stessa cosa che comunque è un ottimo link però Militao non lo porti avanti quando un Varane Varane veramente la gente è portato fino ai Toti qualcuno anche dopo Militao un po' alla volta per overhaul ci saranno carte un po' pure più alte che gli daranno fastidio quindi inizierà comunque a venire usato meno stesso che potrebbe succedere per per il terzetto del Milan diciamo così abbiamo considerato anche che sì però sono comunque due francesi che secondo me per le prime due barra tre settimane sarà un trend in costante crescita sì perché poi fondamentalmente l'abbiamo detto un altro parametro per valutare quella che è la resistenza di prezzo di una carta e anche quella che è l'alternativa no? di quelle carte nel ruolo quindi lì a sinistra terzino sinistro francese voglio dire o ti porti a casa Mendy o ti porti a casa Teo soprattutto se vuoi fare delle ibride di un certo livello poi sono carte che si alimentano con dei link buoni perché lo stesso Teo dà un'ottima intesa a Tomori Mendy comunque c'è Militao eccetera eccetera sono carte che vivono non solo di una vita propria ma si fanno aiutare pure da carte diciamo partner che si tirano a vicenda su esatto Tomori nella fase iniziale del gioco sarà un giocatore fortissimo e tra l'altro inglese ci agganciamo il discorso di prima è un link facilissimo per tutta la premier perché chi va a buildare il lato sinistro con un Tomori e con un Hernandez non c'ha bisogno di smontarlo ibridando poi l'altro ramo con la premier magari ci mette un gioco omez capito qualche carta inglese pop in porta e sta a posto esattamente e come abbiamo visto prima in precedenza per quelle che erano le carte di over all basso che invece calano lo stesso trend a sorpresa comunque ce l'hanno anche delle carte di over all alto abbiamo detto che nonostante anche si presentino come degli ottimi giocatori vivono di una prima fase in cui tutti quanti vogliono metterci le mani sopra però poi aumentando quello che è il potere economico eccetera eccetera accorgendosi che non hanno più la possibilità di sfruttarli con link nuovi perché ti danno diciamo una certa impronta che tu devi seguire o quella o quella per poterli mettere sono destinati poi a perdere perché alla fine tirando le somme dove si casca sulla premier vuoi fare un ulteriore passo in avanti in una squadra da un milione non ti mantieni più nel campionato Bundes o su qualche nazionalità particolare ma cerchi di andare nel campionato più scalabile possibile che è proprio la premier e quindi chi pagherà pagheranno tanti giocatori che allo start saranno comunque molto costosi ma che per ibridabilità o per qualche lacuna dal punto di vista tecnico in questo caso l'Aland 3-3 insomma non è la migliore scelta cederà sicuramente il passo un po' alla volta settimana per settimana e calerà può esserci qualche risvolto anche di meta perché tu mi parlavi la sua giorno di meta diverso colpi di test insomma un giocatore che comunque è versatile è forte in hype anche nel calcio giocato teniamo conto anche di questo ma alla fine questi fattori non riusciranno a reggere il confronto con ibridabilità in un campionato top insomma tipo la premier questo non ce lo riesce a inserire si poi inizieranno a pensare pure tutte quelle cose magari non così primarie come le stelle skill e il piede deboli inizialmente ma non ci dimentichiamo che questo è un 3-3 quindi va considerato tutto il complesso molto limitato molto limitato da quel punto di vista stesso discorso mi sento di fare per un giocatore che secondo me è un crack di quest'anno Llorente fortissimo doppio upgrade rispetto agli ultimi due anni perché già l'anno scorso se ti ricordi allo start ha avuto una carta veramente interessante molti utenti ci buildavano una squadra attorno perché era un giocatore chiave al centro campo quest'anno lo è ancora di più con un overall 86 velocità 88 un cdc con queste stats c'è veramente un portento il problema qual è è che nella squadra non ci sono tutti questi grandi link nella nazionalità pure in campo internazionale con la Spagna insomma non trovi tantissime scelte meglio ovviamente rispetto alla alla Norvegia però insomma siamo anche qui limitati si partirà alto per poi un po' alla volta inizia da calare quindi voi essenzialmente se magari vi ritrovate una carta del genere tra le mani sfruttate quello che è il periodo iniziale di hype non fate l'errore di tenervela troppo tempo tra le mani cercate piuttosto di tirare avanti con delle carte che sono di pari potenza o comunque un po' più scarse ma magari buggate che però vi permettono di monetizzare questi giocatori che vi ritrovate che magari avete spacchettato esatto una via di mezzo potrebbe essere questo Goretzka diciamo così perché comunque già in Germania qualche link in più ce l'ha però anche lì ci sono tantissimi giocatori però immagino già un Werner che comunque è un giocatore utilizzabile riesce a dare una spalla a questo giocatore a portarlo fuori dalla Bundes e questo è un giocatore anche in questo caso molto molto importante bisognerà vedere qui il lato competitivo come ne parlerà perché ha avuto un upgrade se parla di Kullit Gang ovviamente tutto over 80 e potrebbe essere questo secondo me il lato competitivo potrebbe dargli una grossissima grossissima mano perché magari gli metti un Davis un'icona difesa un'icona al centrocampo l'hai linkato e questo qua magari se lo potrebbero portare su dietro qualche prova potrebbe vivere un po' di hype magari molto di più rispetto a uno Llorente perché comunque il competitivo già si appoggia delle icon giustamente quando vai a ibridare i giocatori ricordiamoci che quest'anno ci saranno anche le carte IRO però in Bundes ad ora non si è vista chissà che che puoi portare fuori con una nazionalità particolare quindi ti servono le icon le icon se le possono permettere ovviamente solo i top player o comunque chi ha veramente andato molto bene all'inizio e l'utente medio questa carta non la toccherà molto probabilmente non subito insomma si esatto così come una categoria a parte poi lo fanno quei quei super giocatori i vari Mbappene Mar che insomma fondamentalmente conviene praticamente cercare di aggredire quasi subito quando girano pochi crediti per evitare che magari risalgano categoria elite per così dire in questo caso sono i giocatori che tutti il competitivo dovrà avere eppure chi ha budget posso dire quasi limitato ad inizio gioco dovrà mettere in squadra questi giocatori anche se abbiamo visto che nelle prime ore questi giocatori quest'anno stanno partendo molto alti rispetto all'anno scorso forse c'è anche una maggiore informazione su quello che è il valore di queste carte anche dopo la prima settimana sono carte che andiamo a prendere per esempio giusto per avere un compare con l'anno scorso ma per stessa identica carta anzi ancora più forte quest'anno ha un trend praticamente costante una linea dritta tutto il primo mese questo simbolizza proprio un giocatore che nasce forte continua ad essere forte e utilizzabile per i primi tre mesi finché poi riesce a resistere addirittura anche al Black Friday come puoi vedere poi inizia a calare un po' verso dicembre ma il primo mese è una costante quindi De Mar Mbappé Cristiano Ronaldo che è un po' l'anello di congiunzione con la prossima categoria che andremo a vedere ancora di più si può fare questo discorso perché tra l'altro è andato pure in premier quindi questi giocatori sono delle delle assicurazioni a vita esattamente sì invece un'altra categoria ulteriore è quella là dei giocatori che inizialmente ce li ritroviamo per qualche giorno nei pacchetti poi prendono spariscono e lì pure bisogna stare molto attenti a manovrarli bisogna stare molto attenti a manovrarli perché si sa alcuni si sanno già a schermo abbiamo un Lukaku ovviamente stato già annunciato nel team OTV non si sa ancora se è primo o secondo questo non l'hanno ufficializzato ma si sa che andrà auto-pack Cristiano Ronaldo stesso discorso gli altri giocatori che sono stati già annunciati si sa che andranno auto-pack perché pesa questa condizione di auto-pack perché ad inizio gioco questi giocatori sono poco presenti sul mercato tra l'altro Lukaku poi passato in premier anche un giocatore in hype potrebbe essere buono anche dal punto di vista del gameplay sicuramente meglio di quell'Alan almeno a prima vista da quello che abbiamo visto è molto buono Lukaku esattamente sapendo che poi si va auto-pack la gente ci investe prima per non ritrovarselo fuori dai pack una settimana e non averlo a disponibilità di acquisto quindi ci sarà una fase di over-investing che porterà questo giocatore a salire tanto di prezzo e poi cosa succede? poco prima che ritorni nei pack inizierà a calare l'esempio l'abbiamo avuto l'anno scorso con il buon Timo Werner l'abbiamo nominato prima prendiamoci la carta dell'anno scorso perché anche lui era un nuovo arrivato nel migliore campionato ovvero la Premier si sapeva già che fosse stato TV cap 200 lo raggiunge instant praticamente resta estinto per un po' gli viene alzato il cap tocca i 300 anzi li supera pure poi quando rientra nei pacchi ovviamente anche se c'è stata la buella in atto inizia a calare perché è un giocatore che torna da se stasse al giusto prezzo che era quello dei 200 quindi questa collina così possiamo ritrovarla la ritroveremo molto probabilmente con Lukaku poi dipenderà anche dal capo ovviamente però è molto probabile che questi giocatori saliranno tanto finché sono auto opac per poi assestarsi quindi fate attenzione a questi giocatori e su questi abbiamo detto che si potrebbe fare magari anche qualche bettata in ottica compravendita perché magari quelli che già sappiamo essere o tv che magari hanno un over al più basso quindi non costeranno tantissimo già sono in hype però possiamo andare a valutare quei giocatori che magari hanno avuto un'ottima finestra di mercato non sappiamo se saranno tv magari vai lì ti fai una scommessa valuti effettivamente se magari può uscire a tv lo prendi a un tot e quando poi esce la sua carta lo rivendi perché sparisce dal mercato esattamente abbiamo una doppia opportunità io non mi accontenterei non mi andrei su questi giocatori quei che sono stati già annunciati perché partiranno già in hype ragazzi quindi il vantaggio nel portarsi a casa qualche giocatore del genere lo si ha solo se in questo momento siete nel gioco se ora siete nel gioco tra quei fortunati che hanno il gioco ok se accedete come tutto il resto dalla community fate molta attenzione a queste carte la doppia possibilità dov'è nel fare una scommessa come dicevi tu e quindi muoversi su quei giocatori che si sono spostati Varane abbiamo citato prima Varane è un giocatore che si è spostato in un campionato un giocatore fortissimo però non è stato ancora ufficializzato a tv potrebbe essere a tv potrebbe non esserlo quindi si fa una scommessa se si vince la scommessa ovviamente se beccano un bel po' di crediti se la scommessa si perde ovvero Varane non va nel team otv team otv 1 perché è quello che poi si tira un po' tutti dietro esatto si rischia di comunque imbattersi in uno spacchettamento che immetterà altri Varane e quindi conseguentemente ci sarà una flessione poi che cosa succederà ci si ricorda che c'è il team 2 magari Varane ha la seconda opportunità magari lo rimettono nel team 2 e quindi un'altra oscillata l'avrà per poi insomma assestarsi l'ultima possibilità ce l'avete nell'acquistare appena vengono annunciati nel secondo stesso in cui vengono annunciati gli otv si va a beccare un giocatore otv di quelli che è nel team si fa un investimento lì last second e lo si vende dopo qualche giorno perché magari prendi qualcuno che ti lancia una carta così preso dal panico e allora tu magari non lo sa magari che ho tv chi fare list oppure sono ancora lì presenti sul mercato a prezzo basso quelli saliranno tutti esatto perfetto quindi io penso che abbiamo trattato un bel argomento caldo in tutte le sue sfumature e tutte le sue possibilità ce l'abbiamo fatta a riportare sto video per fortuna con un solo giorno di ritardo ieri è uscita la web app quindi siamo nel vivo prendete questi consigli insomma e fatene tesoro trovate come al solito tutti i riferimenti di John in descrizione perché anche lui stream costantemente sulla piattaforma Viola e ha un canale YouTube e anche una grandissima community su Instagram Foot Universe e nulla John quindi veramente grazie mille per la disponibilità e nulla raga a me non resta altro che salutarvi vi auguro una buona giornata un salutone ciao ciao ciao